Le feste di Natale sono anche l'occasione per riportare in auge le radici e le antiche tradizioni del territorio. A Pacentro, ieri sera, nel maestoso castello di Caldora o di Cantelmo, si dice anche così, si è voluto ricordare una simpatica usanza risalente all'alto medioevo. Nella mattinata della vigilia di Natale, il feudatario di turno soleva offrire, proprio alla porta del castello, un presento alla popolazione di Pacentro, una sorta di colazione, sui tre si è detto anche colazione di Natale, costituita da mele, castagne ed un dolce chiamato copeta, fatto con zucchero, burro, mandorle, nocciole, farina, spezie, mosto cotto ed altro, una specie di antenato del nostro torrone. Qualcuno maliziosamente ci ha detto che i prodotti offerti venivano dagli stessi contadini, che erano obbligati a conferirli al signore del feudo a titolo gratuito. Pensate un po'. L'Associazione Culturale Pacentrana ha indetto un vero concorso con tanto di regolamento e con la precisa elencazione degli ingredienti da usare per la preparazione della copeta. A partecipare non c'erano blasonati maestri dolcieri, ma semplici signore del piccolo borgo, ma è certo uno dei borghi più belli d'Italia. Numerose le signore, ma anche i signori uomini si sono cimentati nella gara a preparare la migliore copeta. Per me sono tutti quanti vincitori, perché comunque ha vinto lo spirito per la quale questa manifestazione esiste e viene organizzata. Se siamo arrivati alla quinta edizione, qualcosa vuol dire. Sono questi momenti di coesione sociale a cui ogni amministrazione locale deve aspirare coesione e tradizione insieme alla riscoperta delle proprie radici. E se le radici sono anche dolci, meglio ancora.